sedicesimo scudetto per la virtus segafredo che vince anche gara 4 e completo un incredibile finale contro milano padrona della stagione in italia e padrona anche del fattore campo in questa finale ancora una volta il platoon system di coach georgevic ha avuto la meglio sulle individualità dell'olimpia una segafredo che vince lo scudetto più inatteso più isperato probabilmente anche più incredibile visto che la prima squadra della storia del nostro basket a vincere una finale a 7 senza il fattore campo per di più 4 a 0 una virtus che quindi si ripropone la prossima stagione come serie candidata per restare fra le primissime teodosic game ball wims hunter paiola coach georgevic forse soprattutto gli autori di questa incredibile storia bianconella iniziamo